Quali sono i diversi sintomi di digrignamento dei denti? Il digrignamento dei denti, o il bruzzismo, è un problema comune che è più frequente nei giovani, anche se può apparire in persone di tutte le età, spesso a causa dello stress. I denti che digrignano i sintomi sono abbastanza semplici e tipicamente includono la sensibilità dei denti, il dolore alla mascella, le gengive sanguinanti e un mal di testa persistente e opaco. Alcune persone sperimenteranno denti rotti o allentati come i denti che digrignano i sintomi, mentre altri potrebbero essere notati solo da un dentista, come danni minori ai denti o l'usura dello smalto sui denti. I genitori o i partner che dormono potrebbero essere i primi a notare i sintomi della macinazione dei denti. Anche se alcune persone semplicemente stringono i denti mentre dormono, il che può ancora causare problemi, altre persone digrignano i denti e li muove avanti e indietro in un movimento di masticazione, che può produrre un rumore distinto. Se un genitore nota questo, dovrebbe essere indirizzato con un dentista. I paradenti vengono tipicamente usati nei bambini per prevenire la digrignamento dei denti, e molti bambini ne escono, gli adulti possono anche scegliere di usare i paradenti, anche se alcuni ritengono che la riduzione dello stress e altre tecniche siano più utili, come la riduzione dell'alcol, che è stato dimostrato che aumenta la digrignamento dei denti. La gente noterà spesso i denti che digrignano i sintomi e il risveglio al mattino. La tensione e il dolore della mandibola sono alcuni dei più comuni, anche se alcuni noteranno anche che i loro denti stanno diventando più sensibili e dolorosi, specialmente per i liquidi caldi o freddi. Questa tensione costante nei muscoli del viso, del collo e della mascella porta spesso a dolore e mal di testa noioso costante. Il dolore o il sanguinamento delle gengive è un po' meno comune, ma può anche verificarsi. Se si notano questi sintomi è importante apportare cambiamenti nello stile di vita per smettere di digrignare i denti, provare ad esercitarsi con tecniche di rilassamento, ad esempio, o fare un po' di esercizio durante il giorno per alleviare lo stress. Altri sintomi di macinazione dei denti appariranno in genere dopo un periodo di tempo in cui la digrignazione dei denti non è stata corretta. Questo può essere denti sciolti, crepe nei denti o danni alle otturazioni esistenti o usura nello smalto che sta progredendo più rapidamente del normale. Un dentista noterà generalmente questi sintomi se il paziente non lo ha ancora fatto. Questo può richiedere un lungo lavoro dentale se la digrignazione dei denti non si ferma, il che può essere un processo molto doloroso e costoso.